Chipsland di Campagna Antonio in via Virginio 5 a Pineroro, il primo takeaway di polpette, patatine e stuzzicherie nella tua città. Da noi proverai offerte sempre nuove e gustose per stuzzicare il tuo appetito. Visita la nostra pagina www.facebook.com slash chipsland, sito web www.chipsland.net oppure puoi chiamarci allo 0 1 2 1 3 2 3 6 0 6. Chipsland ti aspetta in via Virginio 5 a Pineroro. Da noi troverai il paradiso del takeaway. Chipsland, chips, meatball, king.